Il Presidente della Regione, Roberto Chiuto, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone che le scuole della Regione riaprano il 10 gennaio e non il 7 come previsto originariamente. La decisione è stata presa alla luce di quanto emerso nel corso della riunione dell'unità di crisi sul Covid. La sospensione delle attività didattiche il 7 e l'8 gennaio ha valori in ogni istituto di ordine grado, pubbliche e private. L'ordinanza di Chiuto prevede inoltre che nelle aziende sanitarie ed ospedaliere con il coordinamento regionale siano realizzate iniziative di promozione, offerte e rafforzamento della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale, con particolare riferimento ad Open Vax Day per la fascia di età 5-11 anni e, più generalmente, alla popolazione studentesca under 18. Intanto, le persone risultate positive al coronavirus sono 114.842, più 1.073 rispetto al giorno precedente. I dati giornalieri relativi all'epidemia dal Covid comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Calabria, i casi delle ultime 24 ore sono così distribuiti. 379 nella provincia di Reggio Calabria, 221 nella provincia di Catanzaro, 197 nella provincia nella provincia di Crotone, 118 nella provincia di Cosenza e 2 in altra regione o stato estero. Dopo il lieve calo dei ricoveri registrati nei giorni scorsi, ecco che gli ospedali calabresi tornano sotto pressione. Nelle ultime 24 ore sono 12 nuovi pazienti ricoverati nelle varie province per un totale di 352 degenti, mentre si registrano purtroppo altre 5 vittime. Da questo emerge che in Calabria si registra per il Covid un positivo su 100 calabresi. Grazie. Grazie.